Siamo a Molinella in occasione della fiera che vede la sua 48esima edizione. Questa sera sfileranno e si presenteranno al pubblico delle ragazze che provengono un po' da tutta la zona qui intorno e parteciperanno alla selezione Una ragazza per il cinema. La caratteristica di questa serata, di questa manifestazione, è che queste ragazze verranno selezionate non sulla base solo della loro bellezza fisica ma anche sulla base delle loro capacità e delle loro attitudini artistiche. Delle 16 bravissime partecipanti, la vincitrice della tappa di Molinella e delle fasce Gilles Cagné Art Director Pablo e Blue Fashion Group è stata Carina Siscarova. Seconda, con la fascia della stilista Claudia Deserti di Argenta, è stata Dolores Keci. Al terzo posto, con la fascia della stilista Laura Mazzacurati di Molinella, India Collica. Al quarto posto, con la fascia del talento e di One Sport, Giuditta Rossi. Al quinto posto, con la fascia Passi per gli Animali, Alexia Nepitelli. Al sesto posto, con la fascia Morgan, Doina Tiganu. Al settimo posto, Gloria Rossi. All'ottavo, con la fascia Tino Crisabel Lite. Al nono, Silvia Buongiorno. Al decimo, con la fascia Gioielli di Xento, Marika Borella. All'ottavo, con la fascia Gioielli di Xento, Marika Borella.